e bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale in questo nuovissimo video riguardante Arma 3 quest'oggi siamo sul nostro server con la modalità OPEX per una missione improvvisata diciamo che è un test per una certa tipologia di video che abbiamo pensato di fare quindi spero vi piaccia purtroppo come sempre c'è stato il problema con Shadowplay quindi non ci sarà il mio microfono ma dal momento che la missione è stata bella ci siamo divertiti ho voluto comunque caricare il video anche se nelle scene cinematografiche fatte dal caro buon Mythic Phoenix che ringrazio sentirete ogni tanto la mia voce ma guardate il video perché è stata veramente una bella missione ben riuscita finale un po' diciamo inaspettato però è stata è è stata proprio bella bella e divertente e ricordo come sempre a tutti che se volete anche voi partecipare durante le nostre missioni nostre giocate troverete il link di Discord sotto nella descrizione ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace così da sapere se questa tipologia di video vi piacciono soprattutto il tipo di montaggio anche se ripeto sia un test condividete il video anche ai vostri amici e se siete nuovi iscrivetevi per altri contenuti adesso vi lascio il video quindi bella ragazzi è bella lì cosa? dove? dove è il carro? piglia l'angelo al campo! eh ho capito però dove? via! busci il carro! vaffanculo pezzo di merda via! guardate il mio amore! mi serve una potenza di culo dal medico cla! cla tocca mi il culo! cosa vuoi dal mio culo? sono ferito tocca mi il culo! ah sei ferita va ti sei ferita non tocca mi il culo eh! tocca mi il culo! i signori vuoi direzione est ragazzi! è importante precisare! verso est! potrà avere dei punti verso est! per te invece sono i painkiller perché la mia droga speciale... potrà blu verso ovest! verso nord ovest e nord est! Matte stai fermo che anche tu ti fai le basticchiette! eccomi! bastardi! per me non c'ho la pistola giusta appena realizzata! sto chiedendo caricatori alle persone ma non c'ho i caricatori giusti! oh no! eh? eh? com'è la stazione 634? boh? ho contatti in direzione... 9 sud est molto in fondo allora facciamo che squadra verde tiene tutto quanto il sud da sud est a sud ovest squadra blu da nord est a nord ovest attento mates... tu hai la pistola ma te in squadra verde pietre squadra blu tu hai la pistola no no bia ho appena visto dei bani sulla sala principale non l'hai portata sto la companna a est, sono toccato a noi adesso fai attenzione dove spari che sono davanti a te ti vedo ti vedo si è un po' di mezzo si è un po' di mezzo si è un po' di mezzo non so se si può sparare Sì, stai facendo Squadra verde, tutto ok? Tutto a posto Poi arriva lì, tutto a posto Ok, grande Eh? Che fai? Te ne privi? Veicolo verso 260 o west Vabbè, non è un lavoro proprio questo Vabbè, adesso non so Non fermo, sento il rumore Cosa che sa? Perchè ha armato il tipo? È chiaro Ha ostile, è sdraiato per terra, lo vedi? C'è uno in mezzo a casa Con l'io stile, con l'io stile Con l'io stile, con l'io stile Con l'io stile, con l'io stile Tu? In serie si? Tevo Ma com'è? Qua sono finiti gli AM136, botta di sale Samu, hai un Pentrox? Sì, non ho toccato io Ah, sì, da Erbolina Hai un Pentrox? Certo che ho un Pentrox Ah, perfetto Chi lo chiede? Eccomi, sono qua Ah, bene con noi qua Sì, è la nostra squadra È però ovvio che viene con noi Prello, non riesce a piedi, non ho capito Aggiungerei il terrone Anzi, peggio, il veneziano Genovese Nel nostro viaggio abbiamo incontrato delle mine Delle mine Ci sono state mine Sì, però possiamo dire a voi, beh, c'è stato cattiveria, le mine, non... non è che... Non è che... Sì, non è che... Ah, RPG, 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 RPG... Mettete copertura No, 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 cioè RPG, nestanete, non c'entiamo Saremo sulle torrette... No, no, va niente, dietro, va dietro, ci, 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 ci No, ma, basta che stai fermo, basta che non ti muove, nel senso, non che ti entra niente No, in senso, potrebbe essere, um, tu cira, un capicazze Abbiamo avuto un'impostata, pillaggio 1, dietro la curva, non mi ridere Allora, andiamo, che c'è? Corby a ester Sì, 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 sì Sopra Vabbè, sopra Frontera In vera, i nemici sono a Ciappalonia NEPG Iscio Eh, sciazzo l'iso, ma non è, c'è, abbattro C'è un altro, l'ho visto Ecco qua C'è un altro ancora, la sia a destra della porta Cosa, 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 cosa Ah, sto qui, sto qui Lasso qui Ah, perfetto Ok, ragazzi, due andati Qua, 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 qua Sono qui dietro Pietro, abbastati, Pietro, abbastati Ok, ti guardo Io vi dico la mia Io direi di guardare il fiume a est Tanto sono abbastanza alti Qui è arrivato in cassa Qui è arrivato in cassa Mezzo di Montero, sei bambi Dove Lo vi dico molto Zinco, a tuo parere è possibile No, no, non per lo amare No, no, non per lo amare La notte la terra Sarà impossibile guidarlo, ma si può fare, cioè, non affondiamo l'unico problema è che se per qualsiasi motivo succede un incidente qua ci crepiamo per tutti quanti con i mezzi andiamo verso l'est e guardiamo abbiamo capito che qui non si conclude un cazzo va andiamo un guidatore uno sulla torretta li pusciamo pesantemente sistema così tutti sui mezzi andiamo verso l'est e guardiamo fiume verso la palla qui c'è qualcuno che non va la ruota è andata poi ma ti giuro ma trovo roba che non c'era prima ma veramente ho usato su quattro persone il pentroz e ce ne ho sette e ne avevo sei qui qui c'è qualcosa che non porta vediamo 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 le bende tipo almeno almeno le bende che cap era quello ma quelli non c'erano la ruota giù maronna giù 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 grazie andiamo a muotere giù mi chiede la città si è passato non ho visto un accampamento guarda non l'ho visto si è che dove ho spavolato dopo Cristo santo è un'altra squadra fara merda come state? a posto vediamo un meccanico team ehhh ooh lag no lag devrebbe essere fenix ha insistito di fare le od quindi no no rpg come ha sparato? l'ho proprio visto partire guarda podo merd e niente siamo terra siamo tutti abbiamo un piccolo terra quasi il 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Abbiamo tutto tranne che la ruota. No, no. La ruota è l'unica cosa che funziona, l'unica. Non si può cambiare, non si può cambiare, non si può cambiare. Ti va su me, Giulio. Ci passiamo? Abbiamo un problema al motore, è l'unica tenizatore che è Miguel. nessuno loro no il nostro motore va più piano del loro, però loro hanno la ruota in vega ma arriviamo domani, figa ma perchè c'è uno che corre? perchè non ci viene a piare tipo un cino? ah si, ma che ti frega, ma che ti importa che le paga le tasse, non le paga nessuno ma che ti importa di pagare? si ma ho capito che hanno il veicolo down, però noi abbiamo il veicolo più down del loro e funziona ma non ho capito, con i danni al veicolo ci hanno baffato il motore che c'ha più accelerazione che cazzo prima non faceva così ma siamo magari lontani da questo villaggio ma da 1 a 20 che è una meraviglia ma dobbiamo ottenere tutti i movimenti, io non lo so eeeh, questi eri in buono? eeeh, questi? mi caccia in buono? eh? no, no, mi sono da dietro, mi sono posto tre tipo Eurofighter davanti ho visto la scenetta, eeeh, che figa eeeh, dove? eh, dietro, eh, dietro adesso dobbiamo tirarsi di 180 gradi a vedere se non ero fai io non sono sparto ieri, però mi sono un Eurofighter quel posso anche che non puoi di più all'ini? dipende, ci sono tutti ieri 75 eh, controlla quello con l'RPG sopra la casetta, cioè scendiamo? ah no, direttamente gli hanno sparato senza divorz no, andiamo avanti quante cattiverie, me lo dici? non era a sparare a chi fa male c'è c'è il piccione, naturalmente c'è il tipo con l'RPG in mano vado a sparare solo a chi sparava e vediamo tu stronzi sopra la calla ieri uuuuuh usato il, usato il fucile da caccia eb pallettone a 12 bagnano la, cazzo ah, cazzo una palestra ah, si, sbuntiamo Ah, è proprio fatto Prima volta, cosa che non devi fare? Ma il cazzo si è messo il giorno che ti andavo? Andiamo, e voi... Niente Clà? Che vuoi? Non sono esplosi Fermo Ah, posso, posso Maglio Yeah, hurra Allora, vedi, let's go Via, via, via Via, 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 andiamo, andiamo La dov'aveste ripulito Ok, ok No, non andiamo così avanti Qui dov'avrebbe lanciarata la granata Nei lati dov'avrebbe lanciarci Entrato, Matteo, io guardo... tu guarda a sinistra, guarda a testo 3, 2, 1, andiamo Andiamo Ci sono Ma cazzo vuole la nata? No, 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 non c'erano, non c'erano Ma, tanto la granata è già stata lanciata L'ho lanciata io, ma questo di cazzo, ma quella dentro il compound Ci sono anche sui Sì, sì, vai Ragazzi, è già libero dentro Vai, Matteo, vai per tu per salir Ci mangiare Ah, ma qui è dove abbiamo preso i piccioni dopo, qui è lì Avete visto dove sono uscito? No, muzzoni pesanti Soltatevi dalla cassa Copi Allora dopo le trasportiamo fuori e le facciamo brillare Beh, H... Conteneva materiale per bombe artiginale e proietti per carri armati Fuori, Raus, out, dai, riesco Fuori dalla cassa Non posso farlo saltare se siete qua dentro No Wey, davvero Ah, faccio saltare, io Chi è che mi ha sparato? Sono alla fine di quel muro, mi serve qualcuno per compagnia Buono Sì, però mi sto facendo il pentross mentre guido, quindi potrei tipo... È un'invenzione che vuoi stare Guido, guido, dai, guido Ah, ho fatto, ho fatto Oh, io guido volentieri Eh, ma noi non avete il pentross Eh, ma dovete avere il ruolo di medico per darb Perché guido molto bene Eh, ma tu eri sulla torretta Eh, mi caso, mi cambio e... Allora, poi mi piace vedere questi qui che tipo... Guarda, parla la cucaraccia Eh, sono troppo forte, sono troppo forte io Sì, hai visto? Io potrei andare tranquillamente alla diga, velocemente, però dobbiamo aspettare che questi ballano la cucaraccia Oh, sinistra Porco di quelli... Eh, figa Porco di quelli... Ma perché è lì più muti? Ma perché ci vede troppo? Davanti alla roccia, davanti alla roccia, davanti alla roccia, davanti alla roccia Sparagli, sparagli Sparagli E' qua, perché siamo... Andiamo a casa Io voglio andare alla mamma, andiamo a casa A facculo Oh, caso, sono morti quelli Oh, Cristo Io ho visto il mio cazzo di amico che è caduto Io ti dirò, io direi... Ma sono morti, mi sono stati risposi, eh Faccio questo presentimento Beh, andiamo a casa, no? Allora, scegliamo tutti e direi di andare... Non con l'auto Ma che dobbiamo scendere? Possiamo anche direttamente scagliere... Porco, ecco Andiamo via Madonna, come... Vabbè, via, vaffanculo, sono esplosi tanto, no? Via Vai, 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 ma che te ne frega? Ah, vai Eh, io ci provo No, cazzo Ok, oi Eh, non tu via, devo andare via Perché Alpha è caduto per sparare a lanciamissili E' un vero amico No, 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 non tu via, non andare via Allora Alfa... Fai Alpha mentre... ... 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